25 aprile come potete vedere qui a Livigno è pieno inverno, condizioni ottimali di neve e di pisse che hanno richiamato anche per qualche giorno di allenamento qui a Livigno anche la campionessa elvetica Lara Gutta, fresca detentrice della sfera di cristallo di quest'ultima stagione. Lara Gutta che ai nostri microfoni di Malivigno TV ha messo un punto di domanda circa la sua presenza ai prossimi giochi di Milano Cortina 2026. Lara Gutta Berami, la super campionessa di sci alpino, detentrice della sfera di cristallo 2023-2024 ha scelto di nuovo Livigno per il suo finale di stagione. Lara, bentornata. Sì, buongiorno. Beh, alla fine sono un bel po' di anni che ci affidiamo a Livigno e dove devo ringraziare tutti, troviamo sempre ottime condizioni e delle piste perfette che ben pochi sono capaci di farle così in giro per il mondo. Per me di solito più che altro fine aprile quando c'è un bel po' di stanchezza dalla stagione non è una cosa per inventare nulla ma è più per mettere fino in cascina. L'anno scorso abbiamo fatto quattro giorni di gigante fantastici, sono stati i quattro giorni migliori di tutta la preparazione estiva e di tutto l'inverno e quest'anno più che altro abbiamo cercato di ripetere un po' quello. Magari ha nevicato un po' di più perché ecco la primavera non è ancora arrivata però è più una cosa di fare chilometri. Alla fine quando comincia a avvicinarsi già la stagione da agosto a settembre si cerca più il cronometro, si comincia già a cercare di essere più performanti. Mentre invece in primavera a me è quello che piace il fatto di poter proprio sciare senza pressioni, senza stress e lì tante volte non ti rendi manco conto di tutto il buono che riesci a costruire. Stai anche testando materiali per la nuova stagione? Sì qualcosina però alla fine negli ultimi anni mi affido abbastanza a quello che ho, certo ci sono sempre novità e quindi anche quello è il momento migliore con delle condizioni ancora invernali, con della neve invernale che quindi potremmo anche ritrovarci in gara per cominciare a capire se c'è del materiale nuovo che funziona o cosa si può migliorare, se ci sono delle varianti che poi ha senso portare con noi in Sud America oppure no. Lara tu sei famosa per essere una perfezionista, una che non lascia mai nulla al caso ed il tuo palmarès è lì da vedere. Sei riduce da una stagione strepitosa a 33 anni, hai ottenuto forse la tua stagione migliore della carriera. Pensi che ci sia ancora margine di miglioramento? No beh io penso che prima di tutto la cosa importante sia avere passione, cioè continuo a sciare perché ho passione indipendentemente dei risultati, quello poi ti spinge a volerti migliorare costantemente. No penso che di questa stagione posso solo che essere non felice di più perché non avrei mai immaginato di riuscire a essere così costante, ho sempre sognato di riuscire a produrre una stagione di altissimo livello in gigante. L'anno scorso già mi ero avvicinata con il secondo posto e nella generale e quest'anno sono riuscita a fare un passo in più, non avevo mai vinto più di due giganti in carriera, quest'anno ne ho vinti quattro. Perciò per me la base è sempre stato gigante, è sempre stato fondamentale di essere così costante in gigante, di riuscire a fare una stagione del genere in velocità, per me è stato fondamentale. Sicuramente dove ho più margine per migliorare è la discesa che è quella che ho allenato anche meno, quella dove a volte faccio anche più fatica e quindi se c'è una cosa che potrei migliorare per l'anno prossimo, non è facile cercare i dettagli a un alto livello, però è quello dove siamo e che mi reputo anche fortunata di poter lavorare a questo livello. In tema di discesa libera l'Italia, come tu ben saprai, ha un team molto competitivo guidato da Sofia Goggia. A livello tecnico attingi qualche dettaglio da lei? No, sinceramente no. Mentre per ciò che riguarda una Marta Bassino è gigante oppure Federica Brignone? No, io credo che sinceramente il fatto di cercarsi sempre dagli altri sia un tema che venga fin troppo enfatizzato e non è che non abbia senso. Penso che alla fine ogni atleta ha le sue capacità tecniche, fisiche e la bravura degli allenatori sta anche in riuscire a esaltare quello e semmai è anche il loro compito andare a cercare, a guardare quello che magari può fare la concorrenza e adattarlo. Perché alla fine, sembra una frase banale scontata, ma la coppia non è mai all'altezza dell'originale. Quindi questo non significa, c'è talmente tanto da attingere già e migliorare focalizzandosi su quello che si fa bene o si fa male che mettersi a guardare a destra e a sinistra secondo me tante volte diventa quasi dispersivo. Per ciò che concerna invece la velocità, tu che imbaccheca avanti ben 5 coppette di Super Gigante oltre alle 2 overolla, pensi che ci sia ancora margine di migliorarsi? Sinceramente c'è sempre da migliorare, la cosa bella dello sport è che alla fine ci sono sempre margini di miglioramento, sempre quando vinci, anche quando sei in difficoltà, ci sono sempre nuovi, neanche obiettivi, ma piccole sfide. Quindi se no penso che avremmo già smesso tutti da un bel po'. Manca meno di due anni ai giochi di Milano a Cortina 2026 con lo sciolpino donne che andrà in scena sulla Olimpia d'Aere Tofane, pista che ti ha consacrato anche nel 2021 due volte campionessa del mondo. Non manca molto al 2026 e? Mancano due anni, quindi sinceramente non è una cosa a cui penso, non sono in una fase della carriera dove si dicono solo due anni, ma più che altro sono ancora due anni, perciò non credo anzi di esserci, penso che farò un anno e mi fermerò prima. Ci auguriamo di no, è una decisione questa già presa oppure valuterai di mese a mese? Adesso penso, non lo so, non penso soprattutto fino a stagione, non è una cosa che è facile avere lucidità, parlare di cosa vuoi fare, cosa non fare, credo che adesso è la priorità e l'unica cosa a cui penso è semplicemente di cercare di mettere il fio in cascina questi giorni, di lavorare bene domani e basta, senza fare ulteriori piani e dichiarazioni o altro. Grazie.